Buon pomeriggio e buona settimana anche dal telegiornale. In apertura una buona notizia, finalmente dopo tante settimane, dopo mesi, è il caso di dire. Ieri si è registrato, perlomeno nei dati diffusi da Regione Lombardia, zero vittime per il coronavirus. Ed è la prima volta dall'inizio dell'epidemia, un dato che sicuramente è molto confortante. Purtroppo l'epidemia, ovviamente, come sapete, non è finita. La possibilità che ci siano altre vittime in questi giorni c'è, però intanto ieri, appunto, zero morti per il coronavirus. E sono stati 24 i nuovi contagiati. Vediamo. Per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, ieri, non sono stati registrati i morti per coronavirus. Sappiamo che i dati sono da prendere con le pinze e con le pinze li prendiamo. Ma certo, siamo lontani dai 40, 50, 70 e anche 80 morti al giorno che ogni pomeriggio leggevamo sul bollettino della Regione. Non siamo ancora fuori dall'emergenza, dobbiamo ricordarcelo, ma non possiamo non essere felici almeno per un giorno di aver azzerato i morti di questa epidemia. E anche il numero di nuovi positivi comunicato da Regione Lombardia nel Bresciano è importante perché è sceso a 24, il dato più basso dall'inizio dell'epidemia. Non c'è purtroppo la stessa tendenza nel resto della Regione, dove invece nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 920 nuovi positivi. E il numero dei decessi è sceso a 56 vittime in tutta la Regione. In terapia intensiva negli ospedali lombardi rimangono 706 persone, 18 in meno rispetto al giorno precedente. Calano sensibilmente anche le persone ricoverate, 8 in meno rispetto a 24 ore fa, 8.481 in totale. Positivo è il dato dei dimessi degli ospedali, 890. In queste ore ovviamente tiene banco la conferenza di ieri del Presidente del Consiglio Conte sulla riapertura dal 4 maggio. Una conferenza nella quale è stata delineata la nuova roadmap che indubbiamente ha deluso molti, anche perché il 4 maggio un po' tutti fossero ci saremmo aspettati una qualche restrizione in meno. Poco cambia a dire il vero, vediamolo però nel servizio. Fase 2 dal 4 maggio. Riapertura per commercio all'ingrosso, aziende di manifattura, costruzioni, ma rispettando i protocolli di sicurezza sul lavoro. Dal 18 maggio riapertura del commercio a dettaglio, musei, mostri, biblioteche, allenamenti per squadre. Dal 1 giugno riapertura per bar, ristoranti e tutte le attività di servizio alla persona, centri estetici e parrucchieri ad esempio. E' questa la roadmap che il governo ha stabilito per la graduale ripartenza e ritorno alla normalità. Dal 4 maggio rimane il divieto di spostamento, se non per comprovati motivi di necessità per salute o lavoro. Rimane quindi l'autocertificazione per gli spostamenti. Rispetto ad ora viene concessa la visita ai parenti, ma senza assembramento, senza organizzare parti privati, con distanza sociale e utilizzo della mascherina. E la distanza sociale di almeno un metro, se non due, in qualche caso, sarà alla base delle regole per qualsiasi momento della nostra giornata. E oltre a questo sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina. Via libera agli allenamenti per gli sport individuali dal 4 maggio e dal 18 per le squadre. Conte ha annunciato finanziamenti a fondo perduto con meno di 10 dipendenti e un robusto sostegno economico al settore del turismo e a tutta la filiera. Nell'imminente DPCM il Presidente del Consiglio ha annunciato anche più fondi per le imprese, per gli autonomi e categorie sociali più fragili. Il Presidente del Consiglio ha anche confermato che si sta sperimentando la possibilità di rinnovare agli autonomi che già hanno ricevuto i 600 euro il nuovo stanziamento senza ulteriore richiesta. Parchi e giardini potranno essere aperti, ma sempre con il rispetto delle norme. Attività sportiva e motoria. Ci si può allontanare da casa, ma sempre a distanza di sicurezza. Sì a sessione di allenamento di atleti, rispetto a norme di stanziamento sociale, a porte chiuse per attività individuali. Cerimonie funebri, sì, ma solo parenti stretti, massimo 15 persone. Meglio se all'aperto e con mascherine, no ad altre cerimonie al momento. Conte ha annunciato una stagione intensa di riforme, per cambiare tutte quelle cose che non vanno nel nostro Paese e non vanno da tempo. Siamo pronti, ha aggiunto il Capo del Governo, per intervenire in modo tempestivo laddove l'andamento della curva dovesse ripartire. L'unico modo per convivere, ha aggiunto, è la distanza sociale, oppure la curva del contagio risalirà e rischierà di essere fuori controllo. E dopo quanto è successo sulle mascherine in questa emergenza, con prezzi a volte veramente, dire, folli, si dice poco, ora il Governo ha imposto il prezzo per quelle chirurgiche, perlomeno 0,50 a ogni mascherina, con ordinanza ieri del commissario straordinario all'emergenza Arcuri. Il Governo interviene e blocca il prezzo delle mascherine, specie quelle chirurgiche a un prezzo politico, comunque 10 volte superiore al prezzo di pre-crisi. È stato il commissario straordinario Domenico Arcuri a imporre il prezzo massimo per legge, 50 centesimi al pezzo. Il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati, si legge nell'ordinanza praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore per ciascuna unità ad euro 0,50 al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Lo stesso Premier poi, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa ha annunciato che l'IVA su questi DPI sarà azzerata. Il commissario Arcuri definisce le mascherine chirurgiche un bene utile a fronteggiare l'emergenza, la cui diffusione aumenterà radicalmente nella fase 2. Tale aumento della domanda, continua Arcuri, potrebbe comportare una lievitazione ingiustificabile di prezzi al consumo, tale da pregiudicare il più ampio accesso a tali tipologie di dispositivi e la piena efficacia delle misure di contrasto. Da tutto ciò, la firma dell'ordinanza, nella speranza che seguono poi dei controlli, tutti si adeguino al nuovo prezzo, anche i rivenditori online. Purtroppo mascherina e distanza sociale saranno le due regole fondamentali per tutto nella nostra vita da oggi in poi, anche perché, anche se molte nuove regole partiranno dal 4 maggio, nuove riaperture e poi 11, 18 e 1 giugno, ma indubbiamente già da ora per noi queste sono le regole, perché per il vaccino, come ha spiegato il professor Locatelli dell'Istituto Superiore di Sanità, purtroppo ci vorranno ancora dei mesi. Oggi sostanzialmente abbiamo evidenza che per due potenziali vaccini negli Stati Uniti, uno in Inghilterra, uno in Germania e uno in Cina, vi è una fase avanzata di sviluppo. Dove però, anche qui, deve essere detto molto chiaramente, fase avanzata di sviluppo non vuol dire affatto imminenza di commercializzazione, ma vuol dire messa a punto di approcci vaccinali in grado di sviluppare una risposta immunologica protettiva per chi verrà sottoposto al vaccino. A oggi non abbiamo risposte certe su quanto dura l'immunità protettiva in soggetti che di fatto verranno sottoposti a una profilassi vaccinale. Ripeto, è assolutamente rassicurante che grandi gruppi di ricerca nel mondo si impegnino su questo aspetto. Dall'altro però bisogna appunto dire chiaramente che esistono ancora dei mesi prima di poter pensare alla commercializzazione di questi vaccini ed esiste ancora la domanda non definita nella sua risposta, quindi risolta, se preferite, di quanto durerà la protezione vaccinale. Anche qui sarà assolutamente fondamentale una collaborazione a tutto tondo. Veniamo alle altre notizie, torniamo a un paio di giorni fa alla celebrazione del 25 aprile, celebrazione abbastanza, come avete visto, anomale che passeranno alla storia, così come tanti altri avvenimenti e momenti di questo 2020. Una celebrazione del 25 aprile con il sindaco della città, un rappresentante dell'Ampi Soli in piazza della loggia. Le parole del sindaco del Bono e poi una richiesta e l'intonazione di Bella Ciao, proprio in solitaria, sotto il porticato di Palazzo Loggia. Vediamo. non è facile festeggiare la liberazione senza il popolo, senza i tanti cittadini che si sentono parte di una comunità e che si sentono l'ossatura della nostra Repubblica e della nostra democrazia. voglio solo riprendere un concetto che abbiamo appena ascoltato del Presidente Mattarella. Che cos'è la liberazione? La liberazione non è solo la liberazione dagli oppressori, cioè dalla dittatura fascista e dal tacco nazista sul nostro territorio. La liberazione è qualcosa di più profondo, riguarda ciascuno di noi, c'è la costruzione di quegli anticorpi che hanno preso poi libera l'Italia, che hanno permesso di costruire la Repubblica, che hanno permesso di realizzare la democrazia. Chiederei gentilmente, se voglio, di intonare bella ciascuno. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato in Palazzo Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E questo era il 25 aprile festeggiato, appunto, come avete visto sotto il porticato di Palazzo Loggia. Stasera torna Restarte Brescia con la ripartenza della città e abbiamo parlato in questa puntata di come, ad esempio, si sta organizzando la giustizia per ripartire, come ripartiranno, quando ripartiranno i processi. Il nostro ospite era l'avvocato Andrea Cavaliere, presidente della Camera Penale di Brescia. Sentiamo. Ovviamente tutti intendono ripartire in sicurezza, quindi primo aspetto da valutare è l'aspetto della salute di tutte le parti processuali. Il secondo aspetto è che i processi vanno fatti, non è possibile mantenere congelato tutto l'arretrato e non fare i processi. E quindi la via di mezzo è quella di organizzare il lavoro utilizzando le aule più grandi del nostro tribunale, dislocando le parti a una distanza di sicurezza e quindi celebrando i processi in modo sicuro, ma fisicamente presenti in tribunale. Tra l'altro sarebbe sufficiente per evitare gli assembramenti che, come gli avvocati chiedono da tanto tempo, i processi siano fissati con una distanza temporale a livello di minuti o di mezz'ore l'uno dall'altro, in modo tale che non si crei l'assembramento in attesa della chiamata del processo. Le faccio un esempio, se un giudice fissa 20 processi, ma li fissa tutti alle 9, è chiaro che c'è un assembramento di almeno 20 avvocati e delle relative parti, quindi quella è una cosa assolutamente da evitare. Ma se i processi venissero fissati, magari proseguendo chiaramente nel corso della giornata, uno ogni 45 minuti, si riuscirebbe probabilmente a gestirli in maniera assolutamente sicura. Quindi è questo il modo su cui noi spingiamo. Processi quindi che riprendono il 12 maggio, secondo appunto quanto si può ipotizzare nella giornata di oggi. E la chiacchierata integrale con l'avvocato Cavaliere sarà stasera a Restarte Brescia a partire dalle 21. Nella puntata faremo anche un tour nei consigli di quartiere per vedere come si stanno organizzando e cosa stanno facendo. Effettivamente la cosa bella di questo progetto, di questa opportunità che è nata nel momento dell'emergenza è che stiamo andando a consolidare dei rapporti sul territorio, stiamo andando a riscoprire delle risorse nel quartiere che ci stanno dando una mano e l'occasione si va a completare nel momento in cui anche attraverso il servizio di spesa a domicilio che stiamo coordinando in quartiere, ci troviamo in alcune occasioni a riscoprire anche degli anziani del nostro territorio che fino a poco tempo fa erano nascosti. Per fortuna, sono sincero, il nostro non è stato uno dei quartieri tanto colpiti guardando la città dall'alto. Fin da subito però l'amministrazione comunale si è interrogata in quale modo poteva raggiungere la cittadinanza e fin da subito noi come consigli di quartiere ci siamo attivati con la distribuzione delle mascherine. Ovviamente abbiamo cercato di indirizzare queste mascherine alle fasce più deboli della popolazione, quindi gli over 65. Noi nel frattempo stiamo aspettando altre forniture di mascherine affinché da poter tappezzare e fare casa per casa questa distribuzione in vista di un imminente lockdown che è veramente vicinissimo. Da noi sta andando bene, come dicevo prima, ieri sono partiti più di 40 pacchi, non li portiamo a domicilio ma abbiamo costruito un progetto insieme al Comune e al Servizio Sociale Territoriale della zona sud. è un progetto strutturato in continuità, quindi come diceva prima Luca, per il dopo nel progetto è già previsto un dopo, quindi abbiamo già steso un progetto per quanto riguarda il supporto della spesa, ma anche un progetto di supporto a livello, se posso dire, umano di tutti quegli anziani che sono soli. Quindi abbiamo già ipotizzato un futuro, ovviamente poi dovremmo fare i conti con il lavoro che torna, però stiamo cercando di distribuirci in modo tale da riuscire a portare a compimento quello che abbiamo ipotizzato. In tema di ripartenze, la Regione aveva annunciato e lo ha confermato dal 29 aprile, quindi dopo domani, la riapertura dei mercati scoperti in tutta la Regione Lombardia. L'ha annunciato e l'ha confermato ieri il Presidente di Regione Lombardia, Tilio Fontana, dando appunto l'ok, contrario al momento il Sindaco del Bono, sono contrario, dice, non ci sono ancora le condizioni. In ogni caso il Sindaco ha annunciato uno studio più dettagliato per quanto riguarda appunto il discorso di riaprire i mercati scoperti solo però per gli alimentari e ha detto valuteremo in questi giorni, insomma, si rifletterà tutti insieme, ha scritto il Sindaco e valuteremo il da farsi. Quindi staremo a vedere se anche a Brescia riapriranno o meno i mercati nella giornata di mercoledì. La Regione sempre aveva dato il via libera ai cinema ma con drive-in, quindi potrebbero tornare i drive-in per cercare di dare un attimo l'impulso anche al mercato cinematografico che è stato completamente stoppato in questo momento. Sapete che molte uscite dei cinema, dei film ai cinema previsti invece sono stati commercializzati su alcune delle più famose piattaforme, quindi si può vedere il film tranquillamente a casa noleggiandolo e acquistandolo sulle varie piattaforme. Invece la Regione ha ipotizzato l'avvio appunto di questi drive-in e la prima location è davvero molto bella e incredibilmente suggestiva perché parliamo del vittoriale degli italiani. Poche ore fa l'annuncio di Regione Lombardia che il cinema del post-coronavirus sarebbe potuto ripartire dai drive-in. Ora la notizia ufficiale che il primo di questi cinema per così dire sicuri nascerà in provincia di Brescia, in uno dei luoghi forse più affascinanti, il Vittoriale di Gardone Riviera. Nella nostra programmazione annuale avevamo già previsto la creazione di drive-in, spiega l'assessore all'autonomia e cultura Stefano Bruno Galli, uno strumento di per sé affascinante che oggi assume una dimensione ancora più attuale perché permette di fruire in grande sicurezza dell'arte cinematografica. Per il progetto pilota lo scenario sarà degno delle grandi occasioni, il Vittoriale degli italiani, la casa-museo di Gabriele D'Annunzio diretta dal professor Giordano Bruno Guerri che ha accolto con entusiasmo la proposta. Fin da quando l'anno scorso con l'assessore Galli abbiamo incominciato a progettare la pavimentazione dell'anfiteatro anche come cinema all'aperto, sottolinea Guerri, la sciagura del coronavirus ha accelerato il progetto adattandolo a parcheggio del Vittoriale e capace di ospitare un drive-in da 50-60 posti auto per oltre un centinaio di spettatori. D'Annunzio che fra i primi si fece costruire un cinema privato in casa, sarebbe felice come me di dare questo segno di vitalità e di ripresa della gioia di vivere. E siamo allo sport perché anche per quanto riguarda la ripartenza, dal 4 ieri se ne è parlato molto, ieri anche il ministro Spadafore è stato ospite da Fazio e aveva un po' puntualizzato quanto aveva detto il presidente del Consiglio sulla ripartenza degli sport individuali e degli allenamenti. Vediamo. Sport e allenamenti individuali al via il 4 maggio, allenamenti di squadra il 18 maggio forse, almeno secondo le parole del ministro dello sport Spadafore, in collegamento con Fabio Fazio su Rai2, che non dà per nulla scontata la ripresa degli allenamenti di squadra. Si riparte dunque il 4 maggio ma con distanza di sicurezza, un metro o due metri e non più di due persone, allenamenti all'aria aperta e per questo ci si potrà allontanare oltre i 200 metri da casa ora consentiti, ma sempre evitando assembramenti e in massimo due persone. A partire da oggi la società Sport e Salute invierà i primi 27.000 bonifici per i lavoratori del mondo dello sport. Per tutti loro ci sarà un bonus da 600 euro. Verrà poi proposto anche ad aprile e le procedure saranno più rapide. Per i lavoratori del mondo dello sport si intendono tutti coloro che orbitano in questa realtà estremamente ampia, come ha detto il ministro Spadafora, dagli istruttori alle palestre, a chi taglia l'erba dei campi. Spadafora è anche tornato su grandi eventi come il Giro d'Italia e ha riaffermato la volontà di provare a organizzarlo ad ottobre. Spronato poi da ciclista Vincenzo Anibali sul tema della diffusione delle biciclette come mezzo di trasporto alternativo e anti-assembramento, ha detto che con i fondi che metteremo nel decreto di aprile terremo in considerazione anche questo tema. Oggi Spadafora incontra il Comitato Tecnico Scientifico per studiare i protocolli necessari alla ripartenza in sicurezza, quando sarà possibile, di tutte le realtà sportive, anche le più piccole, come palestre o centri di danza. Grazie a tutti per essere stati con noi, ci rivediamo stasera alle 19 con l'edizione serale. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio!